il capo non di certo che mi ha spezzato il cuore perdonatevi cara rosa riquità se siete così ritaggiatari non comparitevi qui davanti preferirei farmi conseggiare da una romanca Una lumacca? Una lumacca, sì! Allora riassumiamo il fatto. Voi giurate che risposerete se vi chiederò in moglie. Giuro che lo farò. E se poi vi rifiudaste, giurate di donarvi a questo fedele fattorello. Lo farò dove si morirò un'ora dopo. E voi giurate che risposerete fedele se vi vorrà. Lo giuro, lo giuro. Anche se avere lei e morire fosse la stessa cosa. E voi giurate. Chi amerete Rosalinda se la porterò qui da voi. Se la porterete, lo farò. E voi vi lavorare. Oh! Grazie a tutti.